Ce l'aspettavamo che era uscita la nuova Sandy? No, ma io. No, tu! Vieni, mamma, io vorrei aprire i 10. No, ma io. Vieni, vieni qui. Non mi vedi. Ora so, rimuovo il video perché Jenny non vuole essere vista. Ok. Ok, ora. Andiamo. No video, guarda. No video, ok? Allora, andiamo a provare per lei. Solo 10, però, eh? Solo 10. Ok. Ciocco. And here. The team, yeah. This character. And this. The team. And only 10. Yeah. So, watching 10 is not... Non lo prenderò mai. E' uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. No, nascerà mai. Otto. Nove. E' l'ultimo. E' l'ultimo. Niente. Niente. Vabbè, immaginavamo. Era scontato che non usciva. Però... Soci di 4, 4 stelle. Peccato. E niente. Vabbè, ci abbiamo provato. Era scontato. E' un buon personaggio. Direi ottimo. Ma non c'è uscito. Come immaginavamo. E quindi... Niente. E' partita la guerra. Ma non ha giocato praticamente nessuno. E' vuota. E quindi niente. I premi sono questi. Veramente pessimi. E Bonnie non si può vedere. E Rose non si può vedere. E Connie a me piace parecchio. Quindi... Penso che... Comunque prenderemo lei. Speriamo. Non si sa mai. Questi sementano qualcosa. I miei ragazzi. E quindi va bene così. Niente. Ci è andata male. Ci è andata malissimo. Come se è poi tardi. Riproviamo. Adob.